Tre giornate di lavori su un tema di particolare attualità, il Mediterraneo del Nord e Mediterraneo del Sud, quel mare Nostrum che dovrebbe unire e che invece finisce col dividere, seminando tensioni e morte. Dopo la tappa di Torino dello scorso settembre, arriva anche in Salento a Gallipoli la fase centro-sud del seminario della Scuola di Democrazia Europea Luciano Cafagna, dal nome dell'illustre storico-socialista organizzata dalla Fondazione Socialismo e dalla Fondazione Europea di Studi Progressisti. Avviata nel 2010, la scuola nasce con l'obiettivo primario di fare formazione politica, proseguendo anche quest'anno per la sua quarta stagione, continuando all'usufruire del sostegno della FEPS con obiettivi e metodologie simili a quelli già sperimentati. Tra i relatori della sessione salentina, l'ex senatore Gennaro Acquaviva. I partiti sono sempre più scassati, se non inesistenti. Cerchiamo di aiutare la politica a trovare un po' di classe dirigente migliore, migliore di quella attuale che è sicuramente non all'altezza dei bisogni. Il livello si è abbassato negli ultimi vent'anni, quindi facciamo quello che si può, nei limiti delle nostre poche forze, per far sì che un po' di giovani di venti, trentenni si innamorino della politica, se possono, e facciano questa politica con intelligenza, con cultura, con professionalità.